Le Marche ebbero un ruolo importante nei moti che poi porteranno al risorgimento e allo stato unitario. A Tolentino, lungo la vallata del Tienti, nella località dove si innalza il Castello dell'Arancia, presidio militare medievale, si infranse fra il 2 e il 3 maggio 1815 il grande sogno dell'Italia unita di Joachino Murat, re di Nato. Pubblicato a Rimini il famoso editto, le truppe murattiane furono sconfitte nella piana di Tolentino dalle preponderanti truppe austriache del Barone Bianchi. Questo fatto guerresco si rievoca ogni anno a maggio con Tolentino 815, sui luoghi stessi della battaglia, preceduto dall'arrivo delle truppe e dall'occupazione di Tolentino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.